Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Oggi puliremo il biciclo nel garage di casa. Innanzitutto però vi ricordo di mettere un mi piace al video se state apprezzando la serie e i video, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con coloro a cui potrebbe interessare questo gioco. E detto ciò, andiamo subito a vedere cosa Algernon Evans ha in serbo per noi. Ho fatto un capitombolo sul vecchio biciclo, no poverino. Sembra che un pizzico di ruggine si sia insinuata nei suoi ingranaggi e i freni non funzionavano al meglio. Se darai una rapida lustratina a questa vecchia carretta, ti aspetta qualche lucente moneta come ricompensa a 10 dollari. Cioè voglio dire adesso ti sei proprio sprecato eh, per 10 dollari. Andiamo a pulire questo biciclo. L'obiettivo di questa mappa è rimanere sul biciclo in equilibrio per 10 secondi. Vediamo se intende in questo modo. Vediamo se si sblocca l'obiettivo entro una decina di secondi. E nel frattempo possiamo anche iniziare a pulire. Esatto, si è sbloccato. Va bene. A questo punto possiamo iniziare a dare una pulita. A partita tutta ruggine questa. Quindi mi sa che ci conviene fare così. Talmente piccolo tra l'altro. Talmente piccolo la superficie che... Ci conviene davvero usare questa. pedalini 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 Perfetto, completato Nuovo lavoro disponibile e altro detergente disponibile Cerca sporco, ho bisogno del tuo aiuto alla villa Con la massima urgenza, attenzione al sindaco Guardiamoci il nostro timelapse E questo lavoro completato davvero in maniera super veloce E che infatti ci ha fruttato solo una decina di dollari Praticamente nulla Che lavoro fantastico Adesso è una vera meraviglia Spero che sia altrettanto comodo da usare Altrimenti lo spedisco al museo Sì, ma questo non è mai contento ragazzi Pulisci la villa del sindaco 350 dollari Nemmeno così tanto in realtà Quindi non penso sarà troppo lungo Ma è una cosa che faremo nel prossimo episodio Perché questo finisce qui Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto Di commentare e di iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Gratia al Sphere È tutto Al prossimo video